Dopo la vice capolista, la quarta forza del campionato, il Campobasso si prepara ad affrontare il Castelnuovo-Vomano, atteso domenica al Romagnoli, con lo stadio che in queste ore è interessato dai lavori di restyling che gli permetteranno di ospitare 8.000 spettatori. 50 punti il Campobasso, 41 il Castelnuovo, stesso numero di partite e all'andata successo per 2-1 degli abruzzesi, sconfitta che ancora brucia e che motiverà ulteriormente il Russo blu, che non hanno alcuna intenzione di lasciare il vertice della gradatoria. Lupi determinati dunque a compiere un altro decisivo passo verso la Lega Pro. Squadra in salute con il morale alle stelle dopo l'esploat infrasettimanale in casa del notaresco. Cudini, a meno di eventi imprevedibili, confermerà lo stesso 11 che ha dato spettacolo contro la vice capolista. Unica modifica nel reparto difensivo, squalificato dal Mazzi, giocherà dal primo minuto sbardella. Infine, una vicenda extracampo. Il Campobasso dovrà pagare 2.500 euro all'ex San Severino, che nel capoluogo non ha lasciato il segno. Lo ha stabilito la Commissione Accordi Economici. Il club annuncia ricorso al Tribunale federale.